Ciao a tutti! Oggi ci imbarcheremo in un affascinante e talvolta disgustosa viaggio nel mondo del cibo. Preparatevi a scoprire alcuni sorprendenti segreti e ingredienti poco convenzionali che potrebbero trovarsi nei nostri piatti preferiti. Se avete uno stomaco forte, esploreremo insieme questo lato oscuro dell'industria alimentare. Iniziamo dai coloranti alimentari. Sai che molti coloranti utilizzati nell'industria alimentare sono derivati da fonti inaspettate? Un esempio è il colorante rosso di cocciniglia, ottenuto da insetti schiacciati chiamati cocciniglie. Sì, hai letto correttamente, insetti schiacciati. Questi insetti vengono macinati fino a diventare una polvere rossa intensa, che viene poi utilizzata come colorante in vari alimenti. Può sembrare disgustoso, ma la verità è che questi coloranti sono presenti in molti prodotti che consumiamo quotidianamente, dai dolci alle bevande. La gelatina è un ingrediente ampiamente utilizzato nei dessert, nei dolci e persino in alcuni piatti salati. Tuttavia, ciò che molti non sanno è che la gelatina è fatta a partire dal collagene animale. Nello specifico, viene ottenuta dalle ossa, dalla pelle e dalle cartilagini di maiali e bovini. Queste parti meno appetitose degli animali vengono processate per estrarre il collagene, che a sua volta viene trasformato in gelatina. È un po' disgustoso pensare che stiamo consumando parti meno nobili degli animali sotto forma di gelatina colorata e saporita. Parliamo ora della L-cisteina. Questo amminoacido è comunemente utilizzato come additivo in molti prodotti alimentari, come pane, pasta e prodotti da forno in generale. Tuttavia, l'origine di questo ingrediente può essere piuttosto disgustosa. La L-cisteina è spesso derivata dalle piume degli uccelli o addirittura dai capelli umani raccolti nei saloni di bellezza. Sì, hai letto bene, capelli umani. Dopo un processo di trattamento, questi materiali vengono trasformati in una polvere bianca che viene aggiunta a vari alimenti per migliorarne la consistenza e la qualità. È inquietante pensare che i nostri alimenti possano contenere ingredienti così bizzarri. A- Il formaggio cremoso e delizioso che usiamo per coprire i nostri hamburger e fondere sulle nostre pizze. Purtroppo, non tutto è come sembra. Molti formaggi processati sono fatti con una sostanza chiamata caseina, che viene estratta dal latte mediante processi chimici. Tuttavia, ciò che potrebbe essere considerato disgustoso è il processo attraverso il quale si ottiene la caseina. Essa viene sottoposta a un trattamento che coinvolge acido cloridrico e enzimi derivati dallo stomaco dei vitelli. Sì, hai letto correttamente, enzimi dello stomaco dei vitelli. Questi enzimi vengono utilizzati per coagulare il latte e formare il formaggio. È abbastanza sgradevole pensare che il nostro formaggio preferito possa essere passato attraverso un processo così strano. Quando pensiamo alla frutta fresca e succosa, di solito immaginiamo un'immagine perfetta. Tuttavia, la realtà può essere un po' diversa. Spesso, la frutta viene trattata con della cera per migliorarne l'aspetto e la durata. Ma ecco il lato disgustoso. Alcune cere utilizzate possono contenere derivati del petrolio, come la paraffina e la cera di polietilene. Queste sostanze vengono applicate sulla superficie della frutta per conferire quel brillante attraente. È un po' disgustoso pensare che potremmo potenzialmente consumare uno strato di cera di petrolio quando mordiamo una mela lucida. Un altro ingrediente disgustoso che troviamo spesso è l'acido citrico. Questo composto viene ampiamente utilizzato come conservante e esaltatore di sapidità in molti prodotti alimentari, come bevande gassate e succhi di frutta. Tuttavia, il modo in cui l'acido citrico viene prodotto in alcuni casi può essere un po' disgustoso. In certi paesi, viene ottenuto da funghi fermentati in una sostanza chiamata melassa nera. Questi funghi vengono coltivati in condizioni specifiche e fermentati per produrre l'acido citrico. Immaginare di consumare un additivo alimentare prodotto da funghi può causare un certo disagio. Infine, parleremo della gomma lacca. Questa sostanza è un rivestimento alimentare brillante e resistente utilizzato in dolciumi, compresse e persino in alcuni vegetali come mele e patate. Tuttavia, l'origine di questo rivestimento può essere piuttosto disgustosa. La gomma lacca è secreta da un insetto chiamato cocciniglia, che si nutre della linfa degli alberi. La secrezione di questo insetto viene raccolta, purificata e trasformata in una resina che viene utilizzata come vernice nei prodotti alimentari. È una rivelazione spiacevole pensare di consumare questo rivestimento naturalmente brillante, ma derivante dagli insetti. Il nostro viaggio attraverso gli alimenti con ingredienti disgustosi è giunto al termine. È importante sottolineare che l'industria alimentare segue rigorosi standard di sicurezza e normative, e molti degli ingredienti menzionati sono considerati sicuri per il consumo. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle origini e dei processi coinvolti nella produzione degli alimenti che consumiamo. Comprendendo meglio queste curiosità e particolarità, possiamo fare scelte alimentari più consapevoli e informate. Ricordate sempre di leggere le etichette dei prodotti e cercare opzioni in linea con le vostre preferenze e necessità. La conoscenza è potere quando si tratta di ciò che mettiamo nel nostro piatto.